Per la quarta volta Ettore Pellizzari alla presidenza del Comitato Provinciale nella prima stagione dopo la separazione dal Comitato Alto a Tesino. Massimo Mazzalai. 121 voti, un sì all'unanimità per Ettore Pellizzari alla guida per altri quattro anni della Federcalcio Provinciale. Ma qual è lo stato di salute del calcio trentino? Nonostante la crisi economica che colpisce anche naturalmente il mondo sportivo e anche quello dilettantistico però c'è una tenuta dell'attività che significa che i dilettanti riescono a resistere anche alle questioni di difficoltà economica proprio perché il volontariato si caratterizza per un disinteresse sostanzialmente al soldo anche se evidentemente le difficoltà ci sono. Nella sua relazione all'Assemblea Pellizzari ha voluto mandare un chiaro messaggio al CONI Trentino. Cioè diciamo che il CONI non si può costituire come una federazione sportiva ma deve essere un ente che promuove l'attività sportiva tramite le federazioni sportive e tramite gli enti di promozione sportiva. Quando invece promuove iniziative che non siano quelle di carattere culturale, che quelle va bene, ma iniziative sul territorio emulando le federazioni non va più bene perché allora a questo punto succede che c'è un conflitto, c'è una sovrapposizione che non possiamo accettare. Il calcio trentino chiede maggiore autonomia alla federazione nazionale per abolire l'obbligo dei giovani in campo e alzare da 3 a 5 le sostituzioni nei campionati di prima e seconda categoria. Grazie.